Ti ho preparato una torta. Oh, e a che gusto? Al gusto di torta. Mi piace cantare. Mi piace danzare. Mi piacciono i treni. Ehi, guarda, c'è scritto credulone sul soffitto. Ah, quindi... Ah, mi ha rubato i polmoni. Muori, patata. Non oggi. Eh, dicevo che non l'hai mai potuto insegnare o l'amacuitare. No, l'amac... No! Dottore, penso che potrei essere omosessuale. Come puoi dirlo? Arcobalè! Che cosa sei tu, un uomo o un topo? Ecco, bambini, vi ho portato i biscotti. Yeah, biscotti, biscotti, biscotti. Mi piacciono i treni. Desmond the Moon Bear Come son finito qui? La fine. Ah 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 ah, non so leggere. Guerra di gattini! No, aspetta! Sono allergico a tutto ciò che adorabile! Oh... Che cosa combini, figliuolo? Mi piacciono i treni. Oh 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 oh! Che ragazzo simpatico. Ehi, sai chi è Finocchio? Tu... Non posso aspettare per mangiare questo panino? Oh sì che puoi. Ah, suppongo tu abbia ragione. Cake bomb! Oh 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 Grazie.